A sella di Monte Aquila, all'ombra del Gran Sasso d'Italia, si è svolta un'esercitazione di soccorso organizzato in cui sono stati simulati due contesti emergenziali, il recupero in parete di un infortunato e la ricerca di una persona dispersa in ambiente impervio. L'intera esercitazione si è svolta alla presenza del comandante interregionale dell'Italia Centrale, il generale Edoardo Valente, del comandante regionale Abruzzo, il generale Flavio Agnello, del comandante provinciale dell'Aquila, il colonnello Sergio Aloia, del procuratore capo della Repubblica dell'Aquila, il dottor Michele Renzo, e dei sostituti procuratori, la dottoressa Simonetta Ciccarella e la dottoressa Roberta Davoglio. La prima attività, riguardata un soccorso tecnico urgente di un alpinista incordata, che a seguito di un infortunio subito durante un'arrampicata su parete rocciosa, ha riportato gravi traumi. Le operazioni di soccorso sono state effettuate da tecnici di soccorso della Guardia di Finanza con l'ausilio dell'elicottero AV139 del centro di aviazione di pratica di mare. La seconda attività, effettuata da più unità cinofile da soccorso e da squadra a terra, ha permesso il ritrovamento di un escursionista disperso e stato confusionale. L'esercitazione ha fornito l'occasione per valorizzare e becolare da un lato il ruolo fondamentale svolto dal soccorso nel dispositivo nazionale di soccorso in ambiente montano e dall'altro le funzioni di supporto grazie alle qualifiche di agente ufficiale rivestite dai suoi appartenenti all'autorità giudiziaria. Tali qualifiche, infatti, rappresentano il tratto distintivo rispetto agli altri operatori di soccorso e consentono ai finanziari del soccorso di curare i profili di rilevanza penale connessi, in particolare alla scomparsa, al decesso o al suicidio di una persona in ambiente montano o comunque in perdio.